Continuiamo la nostra lettura e commento del Corpus Hermeticum, e questa volta lo facciamo leggendo il Trattato Nono, che ha come titolo sull'intellezione e sulla sensazione, che in greco è perinnoeseos kai aeseseos, quindi questo è il titolo, e poi c'è un sottotitolo che dice così, il bello e il bene sono soltanto in Dio e in nessun altro luogo, quindi en mono to zeo, soltanto in Dio, to callon, il bello, kai agason, il bene, sono. Quindi ecco il punto, questo elemento, come bene e bello lo abbiamo già visto in realtà, accennato in un altro Trattato precedente, come bene e bello coincidono tra di loro e che siano esclusivi soltanto di Dio, siano per così dire gli elementi che lo contraddistinguono, che contraddistinguono la divinità unica, sola, indivisibile, in quanto tale. Vediamo come è descritto nel Trattato Nono. Ieri, o a Sclepio, ho presentato il mio discorso perfetto. Oggi ritengo necessario darvi un seguito e svolgere anche il discorso relativo alla sensazione. In effetti, generalmente si ritiene che la sensazione e l'intellezione siano differenti tra loro, in quanto l'uno è materiale e l'altra è essenziale. A me invece sembra che l'uno e l'altra si identifichino, che non si distinguono, intendo dire, tra gli uomini e gli altri animali. Infatti la sensazione è unita alla natura, mentre gli uomini hanno anche l'intellezione. L'intelletto si differenzia dall'intellezione, nella stessa misura in cui Dio si differenzia dalla attività divina, in quanto l'attività divina ha luogo per opera di Dio e l'intellezione, noesis, è per opera dell'intelletto, nus, essendo sorella del discorso, logos, oppure essendo l'uno strumento dell'altro e viceversa. Infatti, né il discorso può essere enunciato senza intellezione, né l'intellezione può essere manifestata senza discorso. Dunque, la sensazione e l'intellezione affluiscono entrambe insieme nell'uomo, quasi fossero reciprocamente intrecciate. Infatti non è possibile né conoscere intellettualmente senza sensazione, qui potremmo ricordare la massima atomistica, né il intellectu quid prius non fluidi in senso, cioè niente è nell'intelletto che precedentemente non è stato nel sensibile, né il senso, e continuiamo la lettura adesso, né avere una sensazione senza intellezione, viceversa, anche il contrario, non è possibile quindi, no? Ma è possibile concepire un'intellezione senza sensazione, come coloro che hanno visioni durante i sogni? A me invece sembra che entrambe le attività abbiano luogo durante la visione dei sogni. Nello stato di veglia, infatti, alla sensazione è unita sempre l'intellezione. La sensazione si trova suddivisa tra corpo e anima, e quando entrambe queste parti della sensazione si trovano in reciproca armonia, allora l'intellezione è espressa verbalmente, una volta che sia stata generata dall'intelletto. Bene, per iniziare è doveroso incominciare a cogliere il tema di cui si sta parlando, che è quello principalmente, l'abbiamo visto, della intellezione e della sensazione, già il titolo è quello, no? Ma in che modo? Si dice che si rifiuta il senso comune, l'idea comune diffusa che distingue tra una sensazione indipendente dalla intellezione, cioè queste due realtà, dice, sono intrecciate, sono unite, sono interdipendenti, sono inseparabili nella loro attività. Non c'è pensiero senza immagine, né immagine senza pensiero. E vediamo come continua l'argomentazione. Infatti, l'intelletto genera tutti i concetti, buoni nel caso in cui ne abbia ricevuto le sementi da Dio, opposti nel caso in cui le abbia ricevute da qualcuno degli esseri demoniaci, poiché non c'è nessuna parte del mondo che sia vuota di demoni. Una volta, insinuatosi nell'intelletto, qui manca una parte, non si sa a chi fa riferimento questa frase, chi sia il soggetto della frase, vi ha seminato la semenza dell'operazione sua propria. E l'intelletto ha generato quello che è stato seminato, adulteri, o adulteri sarebbe meglio dire, essendo l'atto dell'adulterio, uccisioni percosse verso i propri genitori, spogliazioni di templi, empietà, impiccagioni, precipitazioni da dirupi, e tutte le altre azioni del genere che sono opere dei demoni. Le semenze di Dio, invece, sono poche, ma grandi, belle e buone, la virtù, la saggezza e la pietà. Ecco, qui nomina le tre semenze principali del divino, di Dio, che sono fondamentali, sono qualcosa di cui noi abbiamo bisogno intrinsecamente, che sono, appunto, grandi cose che sono belle e buone. Kalakaiagatsa, e sono arete, la soffrosune e la eusebeia. La arete è la virtù, la soffrosune è la saggezza e la eusebeia è la pietà. Vediamo come le declina qui. La pietà è la conoscenza di Dio. Chi ha imparato a conoscere Dio, divenuto colmo di tutti i beni, possiede le intellezioni divine, che non somigliano a quelle della maggior parte della gente. Per questo, quando si trovano in uno stato di conoscenza, cioè gnosi o gnosi, non piacciono alla massa, e la massa non piace a loro. Essi danno l'impressione di essere matti, si attirano derisione, sono odiati e disprezzati, e talvolta perfino mandati a morte. Ho detto, infatti, che il male deve per forza abitare quaggiù, in quanto si trova nel suo specifico dominio. Il suo dominio è la terra, non il cosmo, come dicono alcuni, bestemmiando. Tuttavia, la persona che teme Dio sopporterà ogni cosa, in quanto ha preso coscienza della conoscenza. Per una persona del genere, infatti, tutte le cose sono buone, perfino quelle che per gli altri possono essere cattive, anche se le si tendono insidie, riconduce tutto alla conoscenza, ed è l'unica a rendere buoni anche i mali. Qui c'è un principio che in parte abbiamo già espresso, come in realtà tutte le cose siano buone, non ci sia il male in sé, se siamo collocati dal punto di vista del divino, dalla eternità. Quindi chi ha la conoscenza vede tutto come buono, tutto come espressione del divino, ma, al contrario, se non siamo iniziati a questo sapere, che è un sapere interiore intuitivo, che si ha attraverso l'intelletto, il lus, beh, c'è il male, e il male è quell'elemento terreno, non del cosmo, perché il cosmo è il principio ordinatore, cioè è la realtà ordinata da un principio ordinatore, meglio. E quindi, in quanto principio ordinatore, esso è divino, e quindi il cosmo esprime direttamente il divino in maniera più diretta, mentre la Terra, cioè il luogo in cui siamo collocati, è lontano dal Dio per sua stessa natura, se non appunto si coltiva questa vicinanza interiore morale con Dio, che invece ci rende possibile la contemplazione di tutto l'essere creato continuamente dal Dio, dall'unico Dio. Quindi ecco perché però i discorsi di chi ha fatto questa esperienza del divino interiormente appaiono come folli, incomprensibili alla massa, e quindi si è disprezzati, si è talvolta addirittura, dice, mandati a morte, ma per lo più derisi si è un po' il matto, per dire la carta dei tarocchi che esemplifica un po' l'iniziato. Il matto è colui che, rispetto ai canoni e ai criteri della società, non viene accettato, non riesce ad essere accettato, perché ha intuito, come già Platone aveva fatto notare con l'esempio nella Repubblica della Grotta, che poi in realtà è la caverna, si può identificare in vari luoghi, ma il filosofo si libera dalle catene del sensibile e dalla proiezione delle ombre, che rappresentano questo mondo illusorio al quale siamo abituati, e intraprende un cammino che va addirittura oltre il fuoco, che è causa di quella proiezione delle ombre sulle pareti della caverna, e esce direttamente dalla caverna e vede le idee in sé del bene, che è il sole, però la luce, la fonte da cui tutto proviene, rimane abbagliato e quando deve tornare, ecco che gli uomini non credono ciò che dice ai suoi discorsi, non capiscono come possa una tale esperienza essere reale, avere un fondamento reale, e credono che semplicemente sia un matto. Ma l'esperienza lui l'ha fatta e quindi conosce benissimo lo stato di prigionia in cui sono tutti gli uomini di schiavitù del mondo delle immagini sensibili, e tuttavia appunto viene preso per matto, in qualche modo, e questo è il punto fondamentale se si vuole capire cosa significa anche attraversare un percorso di iniziazione che conduce ad un certo tipo di conoscenza di carattere mistico. Bene, ora leggiamo l'ultima parte prima di procedere con il commento più approfondito che è ricapito da tutto il resto. Ritorno nuovamente al discorso relativo alla sensazione. È una caratteristica dell'uomo, dunque, avere la sensazione strettamente unita all'intellezione. Ma non ogni essere umano, come ho detto in precedenza, gode dell'intellezione. Pensi, l'uno è materiale, l'altro invece è essenziale. Il materiale, infatti, è caratterizzato dalla malvagità e, come ho detto, ha ricevuto la semenza dall'intellezione dei demoni. I demoni sono quelle forze che ci attirano verso la materia, potremmo dire. Gli altri, invece, sono uniti al bene in modo essenziale e vengono conservati e salvati da Dio. Dio, infatti, creatore di tutte le cose, creando, fa tutte le cose simili a lui, se non che queste cose, inizialmente buone, nell'uso della loro attività, divengono diverse. Il movimento del mondo, infatti, con la sua frizione, conferisce alle generazioni determinate qualità, insozzandole alcune, come con la malvagità e purificandone altre, invece, con il bene. Anche il mondo, infatti, o a Sclepio, ha una sensazione e un'intellezione sue proprie, non simili a quelle umane, nemmeno in quanto varie, bensì più forti e più semplici. Quindi anche il mondo ha delle sensazioni e delle intellezioni, cioè ha una componente più vicina alla materia ed una componente più vicina allo spirito, potremmo dire. E quindi nella modalità che è propria, che è propria del mondo. E in questo aspetto serve a capire come anche il mondo possa rivelarsi ora buono, ora malvagio, ma come tuttavia vi sia in tutti gli esseri viventi, in tutti gli esseri che sono, una parte buona e una parte cattiva. La parte cattiva, per così dire, non è dipesa dal Dio stesso che ha creato un ente, qualsiasi esso sia, ma dipende dalla corruzione che spontaneamente esso attira, dal suo insozzarsi con l'attività mondana, dal suo allontanarsi dalla fonte, dall'origine. E quindi quella malvagità è questo allontanamento dalla luminosità del divino. Bene, ricapitolando, come avevamo anticipato, questa prima parte, che è fondamentale in quanto parla della sensazione e della intellezione nell'uomo, mentre poi si passerà alla trattazione della sensazione e dell'intellezione nel mondo, già qui abbiamo accennato, ma è appunto questo aspetto che deve essere approfondito. Vediamo cosa è stato letto. È stato letto innanzitutto che ci sono delle semenze che provengono da Dio o da qualcuno dei demoni, di cui il mondo è naturalmente pieno, è pieno di questi demoni che ci allontanano dal divino. E le semenze dei demoni danno luogo ai vizi, mentre le semenze del divino danno luogo alle virtù. E le abbiamo viste, le abbiamo lette anche in greco, sono grandi, belle e buone, sono la virtù, la saggezza e la pietà. Queste sono le semenze del divino. La saggezza, la pietà e la virtù. La pietà abbiamo visto essere la conoscenza di Dio e grazie ai pensieri provenienti da Dio noi possiamo distinguerci dalla massa che ci odia, proprio per questo aspetto, per il fatto di avere una conoscenza di carattere divino. Il male invece è ciò che caratterizza la terra e tuttavia l'uomo, Pio, può in qualche modo trasformare questi mali e coglierne la realtà ultima divina. Però non ogni uomo ha questa facoltà intellettiva e quindi bisogna distinguere due componenti dell'uomo. La parte materiale, che potremmo dire afferente al soma, al corpo, quindi alla sensazione, e quindi secondo la dicitura gnostica, sono appunto i somatici, mentre la parte essenziale è quella del nus, dell'intelletto, e potremmo definirlo anche qui, secondo la dicitura gnostica, i pneumatici. Da una parte abbiamo gli somatici o gli illici, anche, da ule che significa appunto materia, poi abbiamo gli psichici, che sono quegli esseri intermedi che qui non vengono citati perché naturalmente non è la tradizione gnostica questa, anche se ha molte comunanze, ma è appunto la tradizione ermetica, e poi abbiamo i pneumatici, cioè coloro che coltivano l'elemento spirituale, il soffio divino che è in loro, e quella scintilla di Dio che qui è denominata nus, intelletto, e quindi questi sono gli uomini non materiali ma essenziali, cioè la componente essenziale dell'uomo, l'essenza ultima, divina. Il primo, infatti, cioè l'uomo materiale, riceve le sue semenze dai demoni, quindi è tutto intreso di vizi, mentre l'altro è salvato da Dio, e quindi è virtuoso, pio, saggio. Bene, abbiamo richiapitolato così questa parte, andiamo e procediamo con la parte sulla sensazione e l'intellizione del mondo che non abbiamo ancora letto, ma che poco manca. Infatti, la sensazione e l'intellizione del mondo si identificano in quanto consistono nel fare tutte le cose e nel disfarle risolvendole in se stesse, come strumento della volontà di Dio, veramente creato per essere strumento, affinché custodendo in sé tutte le semenze ricevute da Dio, possa produrre in se stesso efficacemente tutti gli esseri e risolvendoli tutti poi. Possa rinnovarli e perciò a questi esseri così dissolti, come un buon coltivatore della vita, conferisca un rinnovamento grazie alla trasformazione. Non c'è nulla che il mondo non generi alla vita, e muovendosi esso vivifica ogni cosa, e al contempo è il luogo e il creatore della vita. I corpi, invece, sono costituiti da materia, anche se in modo diverso alcuni sono fatti di terra, altri d'acqua, altri ancora d'aria, altri infine di fuoco, i famosi quattro elementi. Tutti, comunque, sono composti, e alcuni lo sono di più, altri invece sono più semplici. Più complessi sono i corpi più pesanti, più semplici, sono quelli più leggeri, e la velocità del movimento del mondo determina la varietà qualitativa delle generazioni. Il soffio, infatti, essendo assolutamente ininterrotto, procura continuamente ai corpi le loro qualità, con una sola pienezza, quella della vita. Dunque, padre del mondo è Dio, e il mondo è padre degli esseri che si trovano nel mondo, e il mondo è figlio di Dio, mentre gli esseri che si trovano nel mondo sono creature del mondo. E a buon diritto il mondo, si chiama cosmos, cioè ordine e ornamento. Esso, infatti, adorna tutte le cose con la varietà della generazione, e con la continuità ininterrotta della vita, con la sua attività infaticabile e con la sua rapidità della necessità, con le combinazioni degli elementi e con l'ordine di tutti gli esseri divenienti. Il mondo, dunque, si deve chiamare cosmos, sia perché è necessario, così sia perché è appropriato. Naturalmente, continuiamo con la lettura. Dunque, la sensazione e l'intellezione di tutti i viventi entrano dall'esterno, come soffiando dall'ambiente circostante, ma il mondo, dopo averle accolte una volta per tutte, nello stesso momento in cui è venuto all'essere le possiede per averle ricevute da Dio. Dio, poi, non è, come pensano alcuni, privo di sensazione e di intellezione. È per un eccesso di timor divino che essi risultano blasfemi. Infatti, tutti gli esseri che esistono o a sclepio sono in Dio, sono nati per opera di Dio, e da esso dipendono sia quelli che compiono le loro attività per mezzo del corpo, sia quelli che muovono il corpo per mezzo di una sostanza psichica dell'anima, sia quelli che sono vivificati da uno spirito, sia quelli che ricevono in sé tutto quello che è morto. Ed è naturale, o piuttosto io affermo, che non è Dio a contenerli, bensì a dire il vero, esso stesso è tutti gli esseri, in quanto non si aggiunge ad essi dall'esterno, bensì è esso stesso che li produce, facendoli uscire da sé e li dona. Questa è la sensazione e l'intellezione di Dio, muovere sempre tutti gli esseri, e non ci sarà mai un tempo in cui qualcuno degli esseri sarà abbandonato. Quando dico degli esseri, infatti, intendo dire di Dio, dato che Dio comprende tutti gli esseri e non c'è nulla all'infuori di esso, né esso è al di fuori di nulla. Siamo passati anche quindi in questo modo alla sensazione e alla intellezione di Dio, perché in ultima analisi c'è una identità tra Dio e l'essere. Dio è ciò che sta a fondamento dell'essere, è ciò che produce l'essere continuamente, costantemente, che lo vivifica e lo rende ciò che è, lo mantiene nella propria esistenza, e al contempo si dà tutto nell'oggetto che produce. Questo l'abbiamo visto, Dio è causa Sui, quindi non ha a sua volta una causa che lo determina, è fondamento di sé, ma è allo stesso tempo la causa di tutti gli altri enti. Quindi è la causa prima, per dirlo con l'atomistica, per usare un'analogia anche qui. E cosa ci viene detto? Che il mondo non ha che una sola sensazione e un solo pensiero, ricapitolando, fare e disfare, poi rifare incessantemente tutti gli esseri, è l'attività del mondo, è la sensazione e l'attività che consistono proprio in questo movimento continuo. È proprio per mezzo del suo movimento e dei suoi mutamenti che il mondo risulta è il fabbricatore, il fabbricatore di tutto ciò che è. Attraverso il movimento infatti si producono infiniti esseri, esseri che sono composti prevalentemente, sostanzialmente e soltanto da quei quattro elementi che abbiamo visto, aria, terra, acqua, fuoco. E in tutti sono presenti questi elementi, seppure in forme qualitative e anche quantitative, direi, differenti. Quindi le varie sostanze si differenziano in questo aspetto, cioè nella presenza maggiore di uno o di un altro elemento. E questo movimento dell'essere, che è il movimento del mondo, è proprio ciò che coincide con la sensazione e l'intellezione del mondo. Quindi il mondo è fabbricatore e diversifica questi prodotti che sono infiniti. Così il mondo, in questo modo abbiamo visto essere il figlio di Dio, che è allo stesso tempo il padre di ogni realtà presente, metaforicamente il padre in quanto dà la vita. E quindi in questo modo il mondo esprime un cosmos, cioè un ordine, un ordine divino che è dovuto proprio alla capacità di produrre esseri secondo una norma, secondo una legge superiore, potremmo dire, che è quella divina. Quindi in questo modo, vedendo come il mondo stesso abbia sensazione e intellezione, bisogna dire che anche Dio ha sensazione e intellezione e si sbaglia per eccesso di timor di Dio, dice, per impietà in qualche modo, nonostante il timor di Dio sia empi, nel momento in cui si afferma che Dio non abbia sensazione e intellezione, in quanto tutto è in Dio, Dio è in tutto, e il mondo esprime questa attività di Dio, questa continua attività di Dio, e quindi Dio ha intelletto e ha sensibilità, perché tutto è in Lui, tutto viene da Lui, tutto dipende da Lui, anche la stessa attività del mondo appunto, oltre che quella di ciascun ente che nel mondo si dà. Quindi lo stesso cosmo ordinato è divino, ma anche ogni ente è divino, in quanto proviene da Dio, e quindi è sempre buono, infatti dal punto di vista del Pio, dell'iniziato, potremmo dire che è tutto buono, e chi non vede questo è perché non ha ancora fatto questo processo che potremmo definire ascetico, di ascensione, oltre che di esercizio interiore. Quindi tutto è buono dal punto di vista di Dio e dal punto di vista di chi si colloca nella prospettiva divina attraverso il Nus, mentre per l'uomo comune, che è tutto inserito nella materia, il male, in quanto egli stesso è vittima dei demoni che lo allontanano dal Dio, che è la sua origine, e quindi il male è questo allontanamento dal divino, potremmo dire. La sensazione e l'intellezione coesistono proprio anche nella figura di Dio, che non è una figura perché non è rappresentabile, non è immaginabile, è un principio noetico che noi possiamo raggiungere attraverso l'intelletto, ma questa sensazione e questa intellezione divina consistono nel muovere continuamente tutte le cose, e tutte le cose sono mosse da Dio, Dio che è la totalità. E vediamo poi adesso l'ultima parte, come si conclude questo interessantissimo trattato. Queste cose, o Asclepio, se le comprenderai ti appariranno vere, altrimenti ti paranno incredibili, infatti l'atto intellettivo si identifica con l'atto di fede, e la mancanza di fede equivale alla mancanza di comprensione intellettuale. La ragione discorsiva, infatti, non riesce a giungere fino alla verità. L'intelletto, invece, è grande, e dopo essere stato condotto fino a un certo punto dalla ragione, riesce ad arrivare fino alla verità, e dopo aver compreso tutti gli esseri, e dopo averli trovati concordi con quanto è stato spiegato dalla ragione, crede e trova pace in questa bella fede. Dunque, per coloro che con l'aiuto di Dio hanno compreso quanto è stato detto in precedenza, questo risulta credibile, mentre per quanti non lo hanno compreso risulta incredibile. E questo è tutto riguardo alla intellezione e alla sensazione. Quindi si conclude dicendo che bisogna anche fare un atto di fede, credere queste cose, perché altrimenti ci appaiono incredibili, e attraverso la fede possiamo comprendere. Io direi che più che una fede è una realtà intellettuale viva e presente, che si riconosce immediatamente come vera, non c'è bisogno neanche di questo atto di fede, però forse l'atto di fede è necessario in chi è ancora vincolato agli elementi dei condizionamenti della realtà sensibile. E quindi per chi è ancora limitato in questo modo e non ha esercitato l'intellezione, è chiaro che ci sia bisogno anche di un primario atto di fede, ma questo poi risulta evidentemente chiaro, al di là di ogni fede, questo discorso che qui stiamo facendo. È un discorso limpido, assolutamente limpido, pur nella sua contraddittorietà, che talvolta si manifesta in quanto Dio sembra essere, in quanto a totalità, coincidenze oppositorie, un'unione degli opposti. Quindi, bene, questo è il punto del discorso che però è essenziale. La ragione non riesce a cogliere attraverso la sua discorsività, il suo essere logos, che logos è sia il discorso sia appunto la ragione, non riesce ad arrivare alla verità. Per arrivare alla verità serve l'intelletto, il nus, lo abbiamo detto tante volte, e questo nus, che è intuitivo, implica anche la necessità di questa fede, che appunto è una fede nella realtà sovrasensibile, potremmo dire, cioè in una realtà che non si può sperimentare direttamente attraverso i sensi, ma che attraverso però il nus stesso è sperimentabile in una sua certa forma. Quindi io direi che comunque appunto la fede è da limitare in questo senso come necessità, benché io non posso oppormi naturalmente a quanto qui è scritto, credo che abbia le sue buone motivazioni, naturalmente, nel invitare l'iniziando a credere innanzitutto, a fare questo atto di fede, perché bisogna avere più che fede fiducia in questi discorsi affinché si possa aprire un mondo, si possa aprire una realtà nuova all'occhio della mente, all'occhio del cuore. Quindi invito anche a seguire questi consigli di Asclepio, rivolti ad Asclepio da parte di Ermete, proprio per comprendere approfonditamente questa realtà divina, che è ineffabile, nonostante non si faccia altro qui che parlarne ripetutamente e infinitamente.